sono i tuoi veri genitori ti vogliono bene ti aspettavano sono qui perché mia madre sta male ma lei non sa come sta quando ne tiene 13 ma perché non posso tornare a casa che vi ho fatto che fai? sto scrivendo il racconto di che parla? ti lascia più io no come me siete pronti? tranquilli signore non ti succederà domani andiamo al mare te l'ho venuta a controllare se mia sorella sta bene lei è della città ma che ti pensavi? che ti riprendeva? vuole solo proteggermi e come tanto tempo fa ripeto chi lo sa vieni ancora alle pavere domani è un altro giorno si verrà grazie a tutti